Se avete bisogno di account modati o account glitchati oppure aggiunte di denaro in contatti su PS4 Oppure servizi di recovery su PC ad un prezzo decisamente moderato da persone serie, oneste e competenti Potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione come Telegram oppure Instagram Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Griggs, oggi ragazzi sono qui finalmente signori miei Ritornato con un nuovo glitch bomba su GTA 5 online Come state Youtube? Spero tutto bene Oggi ragazzi sono qui dove come avete letto dal titolo vi andrò a mostrare un nuovo glitch per regalare veicoli ai vostri amici Quindi ragazzi insomma è un nuovo give card to friend che è uscito recentemente E voi non potete capire che cosa ho dovuto fare ragazzi per portarvi questo video Cioè allora permetto col dirvi che sto glitch è veramente ragazzi una palla allucinante Può sembrare facile ragazzi ma non lo è per niente perché c'è un timing da azzeccare E ogni account diciamo che ha il suo timing ok? Quindi ogni persona che sta guardando questo video ha una connessione internet differente E diciamo che questo timing appunto gioca tutto sulla connessione internet Io ho provato a registrarlo ragazzi sono stato una notte intera ma non ci sono riuscito Per questo insomma la clip che andrete a vedere non è stata registrata da me ma è stata registrata da Gravedigger del Seth Lilac Un gruppo su Telegram che saluto e ringrazio vi lascerò il link ragazzi di questo gruppo nella descrizione Come anche il canale di Gravedigger appunto all'interno della descrizione di questo video È un glitch ragazzi per regalare o farsi regalare veicoli dagli amici Quindi insomma classico ragazzi give card to friend L'unica cosa è che non si può fare in modo massivo quindi anche questo è un punto a sfavore Insomma vi sconsiglio di farlo se non avete molta pazienza Se siete appunto dei giocatori con poca pazienza ragazzi lasciate stare perché questo glitch è veramente molto difficile Su YouTube dicono che è facile ragazzi fidatevi che non lo è per niente Poi sarò io il coglione che non riesce a farlo ma questo è un altro discorso insomma Quindi prima di iniziare sapete già cosa fare mi raccomando lasciate il vostro mitico bell In su come fa veramente tanto piacere mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti Attivando la campanellina che trovate accanto al numero degli iscritti E vi ricordo al solito di entrare nel mio gruppo e canale telegram di cui anche questo Troverete il link nella descrizione di questo video Detto questo insomma passiamo subito alla spiegazione Ovviamente ragazzi troverete tutti i requisiti nella descrizione Per fare questo glitch ci vuole veramente pochissimo tempo L'unica cosa è che appunto ci sono alcuni step da fare che sono un po' appunto rompicazzo Il problema principale di questo glitch è che se sbagliate un paio di passaggi Dovrete appunto rifare tutto il glitch da capo Come anche l'ultimo step che è quello un po' più difficile Se sbagliate qualche step purtroppo dovrete riniziare il glitch da capo Detto questo insomma passiamo subito alla spiegazione del glitch Quindi la prima cosa da fare sarà entrare su gt online in una sessione solo ad inviti Non importa quale tipo di mira state utilizzando Dovrete invitare il vostro amico e il vostro amico dovrà chiamare ovviamente il veicolo che vorrà regalarvi Ovviamente solito discorso se avete pochi soldi potete farvi passare un veicolo da vendere Come per esempio una LG Retro Custom oppure una ISI versione Arena War modificata al massimo In questo modo insomma potrete venderla per fare soldi infiniti Quindi una volta che il vostro amico avrà chiamato il veicolo potremo iniziare Quello che dovrete fare per prima cosa sarà aprire il menu interazione Andare su servizi centro operativo mobile E dovrete ragazzi richiedere il veicolo personale all'interno del vostro centro operativo mobile Questo può essere una RH8, un Faggio, una Sanchez insomma Un veicolo da buttare detto in parole povere Quindi una volta che il veicolo vi sarà stato consegnato dovrete semplicemente ragazzi salire al suo interno E dovrete ragazzi far salire il vostro amico con voi Quando il vostro amico sarà salito all'interno del veicolo con voi Dovrete semplicemente ragazzi entrare all'interno del vostro bunker Una volta che salite all'interno ragazzi del vostro bunker A questo punto inizierà diciamo la fase del glitch Quindi dovrà entrare in gioco il nostro amico Quello che dovremo fare sarà praticamente posizionarci sopra il pallino blu del centro operativo mobile Da fare in modo tale che nel gioco in alto a sinistra Riceveremo l'avviso per appunto premere freccia destra per entrare all'interno del centro operativo mobile A questo punto come potete vedere dalla clip dell'amico in alto a destra che vi lascerò in questo momento del video Il vostro amico tutto quello che dovrà fare sarà premere il tasto option Quindi far comparire il menu di pausa e dovrà ragazzi andare nel playstation store E quindi confermare con il tasto x di voler entrare nel playstation store O comunque sia nell'xbox store o nel pc store Tanto ragazzi il glitch funziona su tutte le console Quindi una volta fatto questo Quando il vostro amico si troverà all'interno del playstation store Dovrà darvi l'ok e dirvi oh guarda sono sul playstation store Quindi una volta fatto questo quello che dovremo fare noi sarà semplicemente ragazzi Premere freccia destra per entrare all'interno del centro operativo mobile Come vedete non succederà niente e qualche secondo più tardi il vostro amico scenderà dal veicolo E questo significa che il glitch sta funzionando A questo punto quindi quando il vostro amico sarà sceso dal veicolo Ditegli di uscire dal menu del playstation store e dovrà chiudere il menu di pausa Una volta che il vostro amico avrà fatto questa operazione Dovrà semplicemente alzare il telefono andare sulla partita veloce che sarebbe il riquadro sopra la fotocamera Come potete vedere insomma in questo momento dal video Quindi una volta che si troverà all'interno del menu delle partite veloci del cellulare Dovrà semplicemente andare su attività e dovrà ragazzi avviare un'attività come braccio di ferro, freccette eccetera eccetera E dovrà avviare ragazzi la attività con amici in sessione e confermare di voler essere sicuro A questo punto il vostro amico riceverà un caricamento con i numeri Dopo 20 secondi questo caricamento diventerà una scritta dove gli dirà scritto popolamento sala d'attesa Quindi il vostro amico dovrà aspettare questa scritta popolamento sala d'attesa con appunto i numeretti E una volta fatto ciò mentre il vostro amico sta avviando la partita di freccette Quello che dovrete fare voi sarà semplicemente spostare il veicolo in tal modo che insomma non sarà di intraccio durante il glitch E dovrete scendere dal veicolo A questo punto mentre il vostro amico sta appunto cercando la partita Voi dovrete recarvi sul pallino blu e dovrete fare in modo che nel gioco in alto a sinistra Vi darà l'opzione di appunto entrare da solo oppure entrare con amici e compagni di crew vicini All'interno del vostro centro operativo mobile Quello che dovrete fare a questo punto quindi sarà Aspettare che il vostro amico riceverà appunto questo caricamento Con la scritta popolamento sala d'attesa Quando il vostro amico riceverà questa scritta popolamento sala d'attesa A voi arriverà un invito sul cellulare che verrà appunto segnato nel vostro schermo Quindi dovrete praticamente posizionarvi sulla spunta chiamata entra da solo però senza appunto confermare E quello che dovrete fare una volta che vi troverete quindi in questo modo Sarà semplicemente premere il tasto ps Andare nel party e ragazzi andare a partecipare dal vostro amico Che sta appunto ragazzi avviando le freccette Quindi schiacciate x sul partecipa alla sessione E tornando nel gioco riceverete il recupero dettagli Per poi ricevere una schermata di attenzione Dove vi chiede se volete veramente cambiare sessione Ora quello che dovrete fare sarà semplicemente confermare E quindi spammare tante volte il tasto x La faremo in modo tale da confermare questo messaggio E successivamente confermare anche l'altro messaggio Dove vi dice che la sessione è privata A questo punto ci sarà un caricamento abbastanza buggato Dopo aver fatto questo diciamo questo step Se rientrando praticamente dopo questa schermata buggata Non riuscirete a vedere il vostro amico Vuol dire che allora il grid ci sta funzionando Se invece lo vedete ancora Allora vuol dire che avrete sbagliato a fare questo step E quindi dovrete rifare questo step da capo Quindi avendo la spunta in alto a sinistra Dove vi chiede se volete entrare da solo Oppure entrare con amici e compagni di crew vicini Nel vostro centro operativo mobile Dovrete posizionarvi sulla spunta entra da solo E quello che dovrete fare sarà semplicemente Premere il tasto ps o comunque sia Premendo due volte il tasto ps Vi riporterà direttamente nel party E quindi dovrete partecipare alla sessione E non appena ragazzi rientrerete all'interno del gioco Dovrete spammare tante volte il tasto x Per confermare di voler entrare da solo All'interno del centro operativo mobile Quindi confermate di voler entrare da solo Nel centro operativo mobile E ci sarà subito dopo la schermata di attenzione Dove vi chiede se volete veramente cambiare sessione Quindi andate a confermare questa schermata di attenzione Subito dopo nel gioco riceverete Un altro messaggio di attenzione Dove vi dice che la sessione è privata Confermate e quindi continuate a spammare Tante volte il tasto x Riceverete una schermata di caricamento nera infinita Quindi durante questa schermata di caricamento nera infinita Velocemente ragazzi andate a premere due volte il tasto ps E vi riporterà nuovamente all'interno del party E andate ragazzi a partecipare dalla sessione dal vostro amico Quindi nuovamente ci sarà il messaggio di attenzione Dove vi chiederà se volete veramente cambiare sessione Dovrete confermare questo messaggio Subito dopo riceverete un altro messaggio Dove appunto vi dice che la sessione è privata E quello che dovrete fare sarà Continuare appunto a spammare tante volte il tasto x Riceverete nuovamente questa schermata Diciamo di visuale buggata Dovrete ragazzi aspettare che questa visuale buggata Insomma smetta di comparire nello schermo A questo punto se avete fatto questo passaggio correttamente Purtroppo ragazzi questo step è quello che richiede un po' più di precisione Perché appunto questo step va fatto a timing Io nel video ho utilizzato questo timing Voi cercate di trovare appunto il vostro timing Per appunto fare questo glitch Comunque in parole povere ve lo faccio rivedere Dovrete semplicemente posizionarvi sulla spunta Entra da solo quindi andare nel party Partecipare dal vostro amico E appena rientrate nel gioco Spammate tante volte il tasto x Per confermare di voler entrare da solo All'interno del centro operativo mobile Quindi se avete fatto questa cosa correttamente Subito dopo nel gioco ci sarà Una schermata di attenzione dove vi chiederà Se volete appunto veramente cambiare sessione Quindi confermate questo messaggio Subito dopo riceverete un altro messaggio Dove vi dice che la sessione è privata Quindi confermate anche questo messaggio E ci sarà una schermata di caricamento nera infinita Quindi quando vi ritroverete in questa schermata di caricamento nera infinita Nuovamente premete due volte il tasto ps Vi riporterà all'interno del party E andate ragazzi appunto a partecipare Dal vostro amico che dovrà trovarsi Ovviamente ancora nella partita di freccette Quindi dal momento che l'avvia Non dovrà più toccare niente Quindi dovrà stare fermo Aspettando che appunto insomma I numeretti continuano ad aumentare In questo modo appunto potremo fare Quest'operazione di partecipare dal nostro amico E riceveremo appunto la schermata di attenzione Dove vi dice che la sessione è privata Quindi in questa schermata di caricamento nera infinita Nuovamente come già detto premete due volte il tasto ps E vi riporterà nel party Partecipate dal vostro amico Confermate il primo messaggio E sul secondo messaggio Aspettate un secondo Vi consiglio insomma di aspettare un secondo E poi spammate tante volte il tasto x Vi ritroverete con questa schermata buggata Dovrete aspettare che questa schermata buggata ragazzi finirà E una volta fatto ciò Vi ritroverete all'interno del bunker Però se avete fatto questo passaggio correttamente Il vostro amico non riuscirà a vedere voi E voi ragazzi non riuscirete a vedere il vostro amico Nonostante vi trovate all'interno dello stesso bunker E questo significa che appunto il glitch sta funzionando Quindi se avete fatto questo passaggio correttamente Come già detto ragazzi purtroppo richiede un po' di pratica Quindi trovate il vostro timing Per appunto fare questo step Quindi quello che dovrà fare il vostro amico a questo punto Sarà uscire dal bunker Se il vostro amico non potrà uscire dal bunker È perché semplicemente avrà diciamo la schermata delle freccette Quindi dovrà annullare questa schermata Semplicemente andando sul telefono Poi partita veloce Entrando nel menu e uscendo Chiudendo il cellulare In questo modo la partita di freccette verrà annullata E il vostro amico potrà tranquillamente uscire dal bunker Quindi il vostro amico esce dal bunker Una volta fatto ciò dovrà aprire il menu interazione Andare su servizi centro operativo mobile E richiedere il suo centro operativo mobile Quindi dovrà aspettare che gli verrà consegnato Quindi vi consiglio magari prima di iniziare il glitch Di dire al vostro amico di richiedere il suo centro operativo mobile In questo modo non dovrà appunto perdere tempo A richiamarlo in questo step Quindi dovrà entrare all'interno del suo centro operativo mobile Una volta fatto ciò il vostro amico dovrà invitarvi All'interno del vostro centro operativo mobile Semplicemente alzando il menu interazione Andando sulla prima opzione Quindi quella dove c'è scritto Invita all'interno del centro operativo mobile E dovrà selezionare il vostro nome Per appunto invitarvi all'interno del centro operativo mobile Quando a questo punto a voi Nella vostro schermo Arriverà l'invito di voler entrare nel centro operativo mobile Del vostro amico Tutto quello che dovrete fare Sarà semplicemente andare sulla lista di attività Alzando il cellulare Quindi vi ritroverete l'invito al centro operativo mobile Del vostro amico E quello che dovrete fare Sarà semplicemente ragazzi Confermare con il tasto X Noterete che andando a confermare con il tasto X Non succederà niente E quindi vuol dire che il glitch sta funzionando A questo punto quindi Tutto quello che dovrete fare Sarà dire al vostro amico Di aspettare all'interno del suo centro operativo mobile Mentre voi Quello che dovrete fare Sarà semplicemente uscire dal bunker Quando sarete usciti dal bunker A questo punto dovrete aprire il menu interazione Andare su servizi Centro operativo mobile E dovrete ragazzi richiedere Il vostro centro operativo mobile Nel mentre che il centro operativo mobile Vi verrà consegnato Dovrete salire sul veicolo Che il vostro amico A questo punto vorrà regalarvi Vi ricordo Che il vostro amico Non perderà il veicolo Ma vi darà appunto Una copia del suo veicolo Quindi appunto Il vostro amico Non perderà il veicolo Che vi sta regalando Quando sarete all'interno Del veicolo Del vostro amico Che vorrà regalarvi Dovrete aspettare Che il centro operativo mobile Vi verrà consegnato A questo punto dovrete recarvi Appunto dove vi verrà Consegnato il vostro centro operativo mobile Quindi recatevi Nella posizione Dove vi verrà consegnato Il vostro com Una volta fatto ciò Quello che dovrete fare Sarà praticamente Parcheggiare Qualche metro distante Dal centro operativo In questo modo Appunto il gioco Non vi darà L'opzione in alto a sinistra Per premere la freccia Per entrare appunto Nel centro operativo mobile E quindi Parcheggiatevi Qualche metro distante Insomma Come starei vedendo In questo momento dal video Né troppo distante Né troppo vicino Insomma Una via di mezzo E quando vi troverete In questa posizione Dovrete dire al vostro amico Nuovamente di aprire Il menu interazione E dovrà trovarsi All'interno del suo centro operativo mobile Quindi aprire il menu interazione Andare sulla prima opzione Per invitare la gente All'interno del suo centro operativo mobile Possiamo dire E dovrà appunto A questo punto Nuovamente rinvitarvi di nuovo All'interno del suo centro operativo mobile Quando il vostro amico Vi avrà invitato A questo punto Dovrete alzare il telefono Andare sulla lista di attività E dovrete ragazzi Andare sull'invito Del centro operativo mobile Del vostro amico A questo punto ci sarà L'ultimo step da fare Per concludere il glitch E questo step È veramente molto importante Se non vi funziona Questo step Dovrete rifare Tutto quanto Il glitch da capo Quindi Statemi bene a sentire Quello che dovrete fare Quindi sarà Posizionarvi sull'invito Del centro operativo mobile Del vostro amico E una volta fatto ciò Tutto quello che dovrete fare Sarà premere Il tasto X Più il tasto Per accelerare Per praticamente Accelerare appunto E confermare Di voler entrare All'interno del centro operativo mobile Del vostro amico Su PS4 In questo caso Sarà X Più tasto R2 Su Xbox Insomma Saranno ragazzi I tasti corrispondenti Quindi premete X più R2 Allo stesso tempo E se avete fatto ragazzi Questo ultimo passaggio Correttamente Dopo una breve Schermata di caricamento nera Vi ritroverete All'interno del vostro Centro operativo mobile E alle vostre spalle Vi ritroverete Il veicolo del vostro amico E questo significa Ragazzi Che avrete Completamente Eseguito il glitch E quindi A questo punto Per ripetere nuovamente Il glitch Dovrete cambiare sessione E quindi portare Un altro veicolo Da buttare E metterlo all'interno Del centro operativo mobile Quindi un'altra LG Un altro faggio Che sia E quindi una volta fatto ciò Se volete Rieseguire il glitch Dovrete rifare Tutto quanto Il glitch da capo A questo punto Quindi il glitch Sarà praticamente finito E avrete ottenuto Gratuitamente Un veicolo Del vostro amico Purtroppo ragazzi Come ho già detto Non si può fare In modo massivo Quindi per ripetere il glitch Dovrete Per forza Insomma Diciamo Ripetere il glitch da capo Ecco perché È un altro punto a sfavore Per appunto questo glitch Cioè A parte il fatto Che come vedete ragazzi C'è bisogno di fare Quel timing Che è veramente ragazzi Una rottura Quel timing Non si può fare Neanche in modo massivo Quindi a mio parere È un glitch Praticamente inutile Io ovviamente Ve l'ho mostrato Ma vi sconsiglio di farlo In quanto sul canale Trovate altri tipi di glitch Per regalare veicoli Agli amici Che appunto Si può fare In modo massivo Detto questo ragazzi Nulla Per questo glitch È tutto Ringrazio ancora una volta Lo zio Gravedigger Del Seth Lilac Un gruppo su Telegram Che appunto Mi ha prestato La clip Che avete visto In questo video Vi lascerò Il link del suo canale Nella descrizione Come anche il link Del gruppo Telegram All'interno della descrizione Di questo video Se siete interessati Anche a farvi passare Dei veicoli moddati Io spero ragazzi Abbiate apprezzato Spero che la mia spiegazione Sia stata il più chiara possibile Nei prossimi giorni Se questo glitch Continuerà a funzionare Vi porterò anche Una risoluzione problemi Come anche cercherò Di portarvi un video Dove vi aiuto Ad azzecare Il timing giusto Per appunto Fare questo glitch E niente Io spero Abbiate apprezzato Ragazzi Se così è stato Mi raccomando Lasciate il vostro Mitico Bell Poli Shonsons Inzucca A me fa veramente Tanto piacere A molti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Attivando la campanellina Che trovate accanto All'interno degli iscritti Vi ricordo Al solito Di entrare nel mio gruppo E canale Telegram Di cui anche questo Troverete il link In descrizione E di seguirmi su Instagram Di cui anche questo Troverete il link Nella descrizione Di questo video Se vi servono Account moddati Account glitchati Oppure servizi Di aggiunta soldi Come anche Aggiunta deluxo All'interno del vostro Account per PS4 Oppure servizi Di ricoveri per pc Al prezzo più basso D'Italia Potete contattarmi Ad uno dei contatti Che troverete Nella descrizione Di questo video E niente Noi ragazzi Ci si becca Come al solito Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella Vagliuuu Ma no regà Lasciate perdere Perché sto glitch È una È una rottura Cioè È veramente Una bestemmia Sto glitch Lasciate perdere Fate quell'altro Dell'arena Ma non fate sto glitch Ve ne prego regà Perché spaccate più Joystick Probabilmente di quelli Che avrà spaccato Dexter Nei video di FIFA Ve lo giuro